Noi in campagna elettorale avevamo tracciato una linea che era quella del risanamento ambientale, delle bonifiche che darebbero lavoro per i prossimi vent'anni. Stiamo ovviamente chiedendo una soluzione ponte che è quella dei fondi FEG per gli ammortizzatori sociali degli operai. È chiaro che oggi noi, come polemicamente qualcuno ha voluto dire, non abbiamo abbandonato Gela. Noi abbiamo perso il sindaco perché non abbiamo voluto sacrificare l'onestà e il voto dei cittadini e la nostra coerenza è rispetto sia del programma che del loro voto al programma e quindi abbiamo sacrificato invece una poltrona, cosa che invece gli altri partiti non hanno mai fatto. Però oggi di fronte all'accusa che abbiamo abbandonato Gela non ci stiamo. Oggi siamo qui, siamo venuti con due dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle nazionale proprio a parlare con gli operai e a dire che non sono soli. Stiamo proponendo soluzioni, le stiamo proponendo a livello nazionale perché al tavolo del Mise faremo arrivare una comunicazione dove chiediamo al Ministero di prendere una posizione rispetto a Eni proprio per impegnarli a fare le bonifiche e quindi a cacciare fuori i soldi. Quei soldi che in tutti questi anni qui a Gela si sono fatti e che si sono portati via non lasciando nulla. E stiamo chiedendo a livello regionale, direttamente io scriverò al Presidente Crogetta proprio per chiedergli di impegnarsi a rappresentare la Sicilia e soprattutto anche la sua città in quello che è un problema ormai davvero occupazionale che sta diventando un problema anche umano di grandissime proporzioni perché sta generando tantissime tragedie e tantissime situazioni. Vogliamo aumentare l'attenzione affinché chi è venuto qui, Matteo Renzi, al Consiglio Comunale dicendo che era tutto a posto e oggi continua a dire che il problema è risolto non si lavi le mani in questo modo ma comincia a prendere davvero a cuore. Bastano pochi minuti per risolvere questo problema perché il Ministero è azionista di maggioranza di Eni e quindi può obbligarlo a fare delle scelte importanti e su questo territorio devono ritornare i soldi per la bonifica e questa è la nostra idea. Cosa si è fatto come idea visto che si palleggiano governo nazionale e regionale nonostante siano sotto la stessa egida quella del PD il problema Gela? Io vedo che c'è un PD nazionale a cui non ne frega assolutamente nulla si sta completamente lavando le mani perché Matteo Renzi, ripeto, continua a dire che qui il problema è stato risolto, in realtà il problema l'ha creato lui qualche mese fa quando è venuto qui e praticamente hanno cominciato a sbaraccare tutte le cose e a livello regionale noi abbiamo sempre puntato il dito contro quel protocollo d'intesa noi lo dicevamo dall'inizio che il protocollo d'intesa era la scusa per Eni per andarsene davvero sbattendo la porta perché impegnava la regione a diminuire le tasse delle royalties E come tutto questo? Il Gelese Crocetta? Il Gelese Crocetta sta facendo lo stesso disastro a Gela che sta organizzando in tutto il resto della regione Crocetta ormai non governa più questa terra da tempo perché è stato messo all'angolo, è rimasto solo e ormai è vittima del suo stesso Partito Democratico che ormai sta governando in maniera davvero incapace Un po' come Messinese a Gela? Solo all'angolo? Ma guardi io spero che... cioè io auguro a Messinese di continuare a governare di governare come lui vuole governare noi avevamo un programma, lui non l'ha rispettato è stato messo alla porta per quel motivo e poi...